Buongiorno a tutti, sono Monica Boggioni e l'altro ieri ho gareggiato nei 200 stile libero, dove ho vinto la prima medaglia di bronzo e ieri sera ho gareggiato nella finale dei 100 stile, dove ho vinto la mia seconda medaglia di bronzo. È un'emozione davvero grande essere qui, partecipare alla mia prima Paralimpiade ed essere riuscita a conquistare due medaglie in due finali. La gara dei 200 stile ho sentito molto di più l'emozione, ho rotto il ghiaccio, invece nella gara dei 100 stile di ieri sera me la sono goduta, ho cercato di dare il massimo fino alla fine ed è stato bellissimo prendere il bronzo per pochissimo. Quindi ora sono due giorni di riposo e il 29 gareggerò nei 100 rana, poi il giorno dopo nei 50 dorso e le gare finiranno il 3 settembre con i 200 misti.